Vorrei presentare un reclamo. Non sono contento di questo pappagallo che ho comprato prima, neanche mezz'ora fa, in questo negozio. Faccia mente locale. Ah, sì, certo, il pappagallo è un orvegese blu. Cosa ha che non va? Glielo dico io, cosa ha che non va. È morto. Ecco cosa ha che non va. No, no, sta dormendo, guardi. Senta, so riconoscere un pappagallo morto quando è morto. Io ne vedo uno morto adesso. No, non è morto, sta riposando. D'accordo, allora, se riposa, io adesso lo sveglio. Alzati! Polly! Ehi, Polly! Alzati e cammino! Uno che fa così è morto. No, hai il sonno pesante. Pesante? Sì, quando dormono non c'è modo di svegliarli, dormono, dormono come sassi. Adesso basta, ti sentire. Questa povera bestiola è deceduta. Va bene, glielo cambierò. Per ottenere qualcosa in questo paese devi protestare finché non hai la schiuma alla bocca. Mi dispiace, ho guardato ma ho finito i pappagalli. Ha finito i pappagalli, me ne aspettavo.